Siamo rimasti favorevolmente colpiti dalla centralità della questione ambientale e da quello che il Presidente Draghi ci ha detto che vorrebbe come ottica di sguardo, di prospettiva, la definita così, ovvero questa centralità della trasformazione verde che dovrebbe ispirare anche le altre ed essere trasversale alle altre politiche. Penso alla politica industriale, a politica fiscale, alla salute, a tutto quello che in qualche modo dovrà essere anche rivisto, ripensato e riorganizzato con le risorse che arriveranno. La buona notizia sulla quale naturalmente abbiamo insistito tutti è che ci sarà un Ministero della Transizione Ecologica dove le competenze ambientali saranno ulteriormente rafforzate perché per guidare e gestire questa transizione sarà necessario un Ministero forte, autorevole e competente. La centralità dell'ambiente dunque in un momento importante per il Paese, questo è il momento in cui dobbiamo gestire forse il più grande piano di rilancio e resilienza degli ultimi decenni.